Salve a tutti quanti, spettatori di Televive, siamo quest'oggi qui sempre a Bobbio Pellice e ospiti con noi abbiamo Roberto Cividini e Lazzaro De Angelis. Vengono da Bergamo e Roberto è un insegnante di educazione fisica presso un liceo scientifico di Bergamo ed è anche anziano della Chiesa Cristianaventista di Bergamo. Abbiamo sentito raccontare alcune delle vostre esperienze durante le sessioni plenarie del nostro convegno di fede e di preghiera. Vuolresti condividere qualcuna di queste esperienze anche con gli spettatori di Televive per arricchire anche noi? Volentieri. Quest'anno, come ti dicevo prima, ho avuto una bellissima esperienza di conversione ma soprattutto di come Dio può agire nella vita di uomini e di donne di buona volontà che si mettono totalmente nelle sue mani. Spesso e volentieri noi abbiamo paura, come dice il primo grande comandamento e amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, con tutte le tue forze e amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è tutta la legge. Il problema è metterla veramente in essere. E spesso e volentieri quando noi preghiamo non riusciamo a darci totalmente a Dio. Anima, corpo, pensiero, forze, energie e quando questo avviene avvengono dei grandi sconvolgimenti nella nostra vita. Io dico in positivo, può sembrare inizialmente in negativo ma poi le benedizioni di Dio cominciano a venire. Spesso ho sentito preghiere abbastanza superficiali ma quest'anno ho assistito a una preghiera e a un'esperienza molto forte con questo carissimo amico che ormai ho conosciuto, Lazzaro. Sono andato a casa sua in seguito a una richiesta di aiuto e pensavo di andarci una sola volta ma poi il Signore ha voluto che ci frequentassimo per otto mesi. Tutte le settimane eravamo a casa sua siamo partiti con un piccolo gruppo, piccolissimo, di sette persone e siamo arrivati a 42. Però inizialmente tutto era nato per aiutare Lazzaro. Lazzaro è la sua casa. Dopo un percorso abbastanza tortuoso perché c'erano non pochi problemi abbiamo dato il via alla soluzione e la soluzione è la preghiera. Abbiamo pregato dopo circa tre mesi dopo un percorso pregavo sempre io ma dopo tre mesi ha cominciato a pregare Lazzaro. E mi ha toccato molto perché la prima preghiera che lui ha fatto l'ha fatta veramente con tutto il cuore e ha chiesto a Dio un qualcosa che non è così facile chiedere. Lui ha detto in preghiera, in ginocchio ha detto Signore, io sono disposto a mettere la mia vita nelle Tue mani e sono disposto a perdere tutto, ogni cosa. Sono disposto a perdere la mia casa tutti i miei averi lui è un imprenditore sono disposto a perdere anche la mia stessa moglie o il mio suo figlio la mia stessa vita pur di sradicare il peccato della mia casa. è un uomo che si sentiva in colpa per tante cose che durante la sua vita lui ha fatto e visto che la sua vita dopo che gli ha dato tutto da un punto di vista materiale ma poco da un punto di vista di felicità di pace, di armonia e anche di spiritualità lui ha chiesto a Dio una nuova vita ma adesso il proseguo lo lascio raccontare a lui. Allora passiamo a Lazzaro che come il Lazzaro amico di Gesù è passato dalla morte la vita è stato in qualche modo risuscitato abbiamo con noi appunto Lazzaro De Angelis imprenditore nel campo delle automobili sempre a Bergamo, giusto? Raccontaci come Dio ha risposto a queste preghiere. Sì ecco come diceva Roberto io ho avuto una vita molto vissuta però a un certo punto mi sono reso conto che non era la mia vita ecco perché a un certo punto di questa vita mi sono ritrovato ad avere delle cose che non andavano in casa, in famiglia e lì ho cominciato a pregare ma pregare superficialmente ecco finché abbiamo creato un piccolo gruppo da questo gruppo è stato contattato Roberto tramite una persona e quando ho conosciuto Roberto mi ha illuminato molto per quanto riguarda la fede la parola di Dio dopo un certo periodo che come diceva Roberto eravamo spesso in preghiera ho deciso di pregare anch'io e ho chiesto di sradicare il peccato dalla mia vita, da casa mia e ho chiesto di togliermi tutto ma non la fede perché secondo me perdere tutto oggi non importa l'importante è non perdere la fede e mi sono accorto che comunque la preghiera è veramente qualcosa di molto 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 potente perché continuando a pregare è vero io oggi ho perso tutto ma se mi guardo indietro non ho perso nulla perché ho ancora la fede oggi scusami se ti interrompo per far capire meglio ai nostri telespettatori vuoi dirci esattamente cosa hai perso quando dici tutto? certo ho perso la famiglia che è la cosa più importante il lavoro sta andando molto male non sono forse l'unico in Italia sto perdendo la casa la mia vita è cambiata completamente però io oggi vedo che la mia vita è cambiata meglio anche perché nonostante queste preghiere mi ha fatto vedere cose che io non vedevo per esempio? per esempio c'era un peccato che io avevo in casa che mi faceva sentire in colpa da anni in un sogno con la preghiera in un sogno ho visto che non era colpa mia mi è stato detto il sogno ho visto un uomo che mi si avvicinava e mi diceva di non piangere per questo peccato perché io non c'entravo nulla mi sono svegliato nel mezzo del sonno c'era mio figlio che dormiva a fianco a me e ho cominciato a pregare ho detto padre devi darmi una risposta ma è colpa mia? io sono l'autore di questo e la risposta è arrivata mio figlio nel sonno ha detto no lui ha detto no nel sonno mio figlio no vuol dire non c'entri nulla io sono andato a chiedere conferma a questa persona e questa persona mi ha confermato dopo tre anni mi ha detto sì è vero tu non c'entri nulla in questo scusami se ti interrompo ma la domanda almeno a me sorge spontanea forse è bello che anche i nostri telespettatori possano capire meglio sembra quasi che la risposta alle tue preghiere sia stata che il Signore ha voluto la separazione e la perdita della tua famiglia può effettivamente un Dio d'amore volere la separazione di una famiglia? come ti spieghi tu questa cosa? che risposta dai a questa domanda? sicuramente il Signore non vuole la separazione di una famiglia però nel mio caso è accaduto perché mi ha fatto vedere realmente quello che non andava e la mia preghiera è stata ben precisa nel dire sradica il peccato dalla mia casa e da parte mia io ho sempre cercato di non arrivare alla separazione però ho visto delle cose che non andavano assolutamente dopo svariati tentativi nel cercare di tenere unita questa famiglia andando anche contro la volontà di mia moglie nel dire no non arriviamo alla separazione nonostante le colpe erano al 50% siamo arrivati alla conclusione che lei ha preferito lasciarsare tutto a mio avviso no a mio avviso Dio assolutamente non vuole le separazioni però il mio caso ripeto è stata necessaria necessaria e credo che quando Dio ti fa vedere le cose le cose reali il peccato reale non puoi andare contro la sua volontà in qualche modo Dio si è dovuto adattare alla volontà di tua moglie? ma credo che Dio abbia fatto la sua volontà su mia moglie e su di me come quali sono stati i tuoi sentimenti nell'accettare questa volontà di Dio e cosa ti ha dato la forza di accettare questo? ripeto la fede perché Dio se toglie qualcosa che non va è perché se veramente fede in Dio perché ti darà cento volte di più di quello che avevi ripeto a me non interessano i beni materiali mi interessa la fede oggi cosa ti ha dato esattamente Dio in cambio di soldi persi casa persa famiglia persa vuoi raccontarci essendo un pochino più specifico cosa hai ottenuto oggi? sicuramente una crescita spirituale una serenità che prima nonostante tutto ciò che avevo non avevo una serenità interna e poi la gioia di conoscere persone sincere persone vere persone che ti insegnano veramente che cos'è la vita vera la vita reale perché secondo me erano tutte illusioni che consiglio vorresti dare a chi magari ci sta ascoltando e sta attraversando anche dei momenti difficili magari anche adesso in questo momento di crisi economica e non sa dove sbattere la testa ripeto dovete pregare tanto pregate e abbiate tanta fede perché vi verrà restituito tutto il doppio di quello che vi è stato tolto grazie Lazzaro e se questa è una delle esperienze che ha fatto Roberto il gruppo della Chiesa di Bergamo adesso non vedo l'ora di sapere come è nata questa attività di condivisione dell'Evangelio e della preghiera in modo da poter raccontare anche agli altri come si arriva ad ottenere dei risultati del genere vuoi raccontarci qualcosa? ma volevo fare un ulteriore diciamo chiarimento anche nel discorso del mio amico Lazzaro nella vita quando noi facciamo delle scelte che non sono secondo la volontà di Dio spesso chiediamo a Dio di aiutarci a proseguire in queste scelte ma il Signore quando noi ci mettiamo nelle sue mani fa una pulizia grande nella nostra vita devo dire che la forza che ha avuto Lazzaro attraverso lo Spirito Santo è stata quella di chiedere a Dio di fare veramente della sua vita tutto quello che era secondo la volontà del Signore tradotto chiaro che se un'attività viene fatta in un certo modo e magari con io dico con tutti i mezzi pur di arrivare allo scopo finale al fine questo non sempre è giusto allora il Signore ha voluto mettere a posto anche la vita in questo senso e così anche nei rapporti di coppia Lazzaro ha sottolineato io ero presente lui ha sbagliato ha sbagliato molto e ha chiesto perdono perdono in tante cose non avevo mai voluto la separazione ma il Signore non è un Signore che costringe e obbliga questo è importante tradotto adesso per quanto riguarda l'altra domanda è che nella mia vita diciamo cristiana in questi ultimi anni ho ricercato attraverso la parola di Dio un qualcosa di più dell'andare in chiesa un qualcosa di più del semplicemente andare in chiesa il sabato mattina per chi è un cristiano avventista la domenica per chi è un cattolico o un'altra religione e così ho cominciato a pregare a chiedere a Dio di farmi avere un attimino un po' più di visione in questo nella preghiera spesso e volentieri ripeto a noi a noi piace stare seduti e chiedere a Dio di fare grandi cose salute e chiedere a Dio di fare grandi cose è un po' il signore della lampada di Aladino quando il signore invece vuole fare grandi cose con noi ma noi abbiamo bisogno di metterci totalmente in gioco e in discussione 24 ore su 24 allora la chiesa non diventa più un hobby o un passatempo o del tempo libero per non è fare del volontariato o vivi Cristo o non lo vivi quindi detto questo ho cominciato assieme a un gruppo della chiesa di Bergamo a un piccolo gruppo di fratelli ho cominciato a pregare e c'è stato un grande risveglio abbiamo pregato per il risveglio ma il risveglio in realtà è venuto è avvenuto perché Dio ha risvegliato noi molte volte nelle chiese si critica quello che gli altri fanno in realtà la prima critica il Signore dice guardala dentro di te che cosa stai facendo quanto ti stai donando allora quando un fratello si mette in preghiera e chiede a Dio Signore danni la forza il coraggio la mia visione ma metti in gioco tutta la mia vita soldi spazio la mia casa il mio tempo rivedi tutto e quando uno chiede a Dio Signore rinnova la mia mente in questo questo diventa la potenza di Dio allora il Signore può veramente agire e cambiare rivoluzionare la tua vita la vita di casa tua e la vita di tutti i tuoi amici dei tuoi nemici e della tua chiesa grazie Roberto il tempo stringe e quindi questa testimonianza è veramente una bellissima testimonianza di quello che il Signore può fare nella vita di chi magari sta soffrendo sta vivendo dei momenti molto bui e trasformarla da una vita buia a una vita di luce di quello che può fare anche con una chiesa che veramente decide di mettersi al servizio e di voler essere il suo braccio la sua mano tesa verso chi ha bisogno abbiamo veramente sentito quello che lo Spirito Santo ha fatto attraverso di voi e spero che questo possa essere anche di incoraggiamento a molte persone che o stanno appunto in un momento difficile della loro vita oppure vogliono sentono una chiamata verso il servizio del Signore e non sanno cosa fare a volte basta poco a volte basta pregare mettersi veramente come ha detto Roberto in piena disposizione perché il Signore ci possa osare secondo la sua volontà e poi sarà lui a fare tutto credo che questo sia stato una bella testimonianza ringrazio anche voi che ci avete seguito e spero che possa essere anche un ottimo spunto per tutti quanti arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti